ciao a tutti i pasticcioni bentornati nella mia cucina come state spero bene oggi preparerò la ciambella del bar originale cotta nel fornetto versilia con una piccola variante anziché la scorza del limone userò la fialetta all'arancia vi elenco gli ingredienti 200 grammi di farina 150 grammi di zucchero 3 uova qui li ha separati tuorli e albumi 125 ml di latte 50 ml di olio di semi di girasole una bustina di lievito e la fialetta all'arancia un po' 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 un Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.